Sembrava doversi concludere con un nulla di fatto e invece, alle battute finali, la COP27 di Shanmeh Shaikh ha trovato l'accordo. Nasce dunque il fondo che ristora le perdite e i danni causati dal riscaldamento globale, una misura sollecitata in particolar modo dai paesi più poveri e in via di sviluppo, uno dei punti più delicati della trattativa. Invito ora la COP ad adottare la decisione intitolata Disposizioni di Finanziamento per rispondere alle perdite e ai danni associati agli effetti avversi dei cambiamenti climatici, compresa l'attenzione per affrontare le perdite e i danni. Non ho sentito obiezioni, è così deciso. In Egitto sarà nominata una commissione di esperti che porterà il progetto del fondo alla COP28 di Dubai. I destinatari degli aiuti saranno i paesi più vulnerabili e sarà ampliata la platea dei donatori. Sul fronte della mitigazione del cambiamento climatico si conferma l'obiettivo di mantenere il riscaldamento globale entro 1,5 gradi dai livelli preindustriali.